buongiorno a tutti da Vic Islanda prima alba del nostro viaggio e primi piedi bagnati eccoci qua ottimo sono eroici questi c'è un momento in cui si può anche venire via dall'acqua va bene far la foto ma cosa non si fa per una foto eh che mito non mi fa paura niente avete un altro paio di scarponi spero no no così si asciugheranno quando tornate a casa ok a posto allora ho il video tira a metà gamba bello spettacolo dai ne vassa la pena allora tutto ok ragazzi tutto bene come stiamo con i piedi perfettamente è arrivato un bell'ondone certo fate quello che volete tanto ormai avete assaggiato l'acqua quindi siete temprati siete a posto insomma ci siamo bagnati subito qua prima alba e primi piedi bagnati ottimo il viaggio può essere solo in discesa adesso adesso comincia a essersi un po' più di luce quindi si riesce a scartare con i tempi ideali anche con il diso basso per cui mi pensavo che va proprio in senso di momento buono spettacolo no ma guarda non è che mi son bagnato tanto eh no va bene ma le chette poi sono fondamentali eh mi fa un po' in entrare come se questo video posso farlo ad aspettare di scaldarla dopo un po' di phone e via no c'è un sacchetto di simice tutto a posto ragazzi avete bisogno? tutto ok? quando avessi provato a scartare mi sono bloccato cioè sento il blocco che non scatta provo eh proviamo proviamo hai messo il blocco specchio? no lo disette l'ho attivato il blocco specchio tu devi premia due volte una volta per rastrarlo specchio e una volta per scartare adesso premi e fa la foto vedi e non male così prima avevi l'autoscatto forse l'autoscatto invece prima una volta sola col telecomando non male così col blocco specchio ti premia due volte non c'è io la voglia di fare senza effetto seta? la vuoi fare? vuoi portare l'iso no capito la vuoi fare? senza l'effetto seta senza l'effetto seta di bloccando il movimento delle onde? eh di usare i tempi talmente veloci che adesso non ce la fai vuoi fare la 6.000 iso perchè per bloccare il movimento delle onde scattare non so a due centesimo almeno quindi non si fa adesso no devi farla quando c'è più luce benissimo grazie chi è da posto? bisogno? bella è proprio un po' lontano il movimento ecco anche qui vedi cerca di non avere questa linea che ti taglia perchè interrompe l'ingresso nella foto cercavo di iniziare subito con le scie è la cosa migliore qua è stato sempre prodotto veniva in sull'onda quindi è tutta oceglia qua si vede una discesa ok adesso cominciamo se si usano i tempi che è più veloce di prima questa buona ad esempio come un momento di scatto ecco queste sono un paio di cose da fare e adesso cerca di stare su quei tempi che dicevamo tra mezzo secondo tre secondi circa aspetti che l'onda ti arrivi qui sotto i piedi quando torni indietro scatti anche due o tre foto perchè voi scegli quella che poi è venuta meglio ovviamente perfetto benissimo comunque mi piace ok che Tutto a posto ragazzi? Vai dimmi L'AVP Non metti i crani che è qui Pensiamo che non c'è un'utilità vera Perché tanto lo fai dopo Poi se ti piace vedere a già posto è un conto Non è fondamentale assolutamente Tutto a posto Bella questa Bellissima Bellissima in scia Sì ottima Bellissima Guarda che movimento che c'è Questa è molto particolare Questa è molto particolare Bella Ottimo Quando arriva l'onda ti si abbassa Ma meglio così sta più stabile Occhio ragazzi questa è lunga Questa è una bella scia Grandi Non ha paura di niente questi eh Grandi Vuole meglio eh Vuole meglio guarda Hai fatto l'opposta lì dove sei tu L'abbiamo Tamp gegeben Grazie Avevo è un po' stretto a somma invece con le altre facendo un ritaglino dalle altre parte quella diagonale anche dall'altra si un ritaglino perfetto molto bello bene ragazzi un saluto che cominciamo a scattare sul serie qua ciao